Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come La nota artista Ornella Vanoni ha fatto alcune rivelazioni a sorpresa sul suo stato di salute. Cosa ha raccontato e come sta adesso? Quello di Ornella Vanoni è senza dubbio uno dei nomi più amati ed importanti del panorama musicale italiano. Con la sua voce ha portato al successo Brani ancora oggi tra i più ascoltati da tutte le generazioni. Il suo nome è però di recente tornato al centro dell'attenzione, e questo a seguito di alcune sue dichiarazioni. L'artista ha parlato di un problema di salute che da anni deve affrontare e che ancora adesso fa parte della sua vita. Vediamo nel dettaglio cosa ha deciso di rivelare e come sta adesso. Ornella Vanoni, la rivelazione sul suo privato. Cosa deve combattere? In questi giorni ha preso piede sui social, una polemica clamorosa. Protagonista di questa storia l'attore Artem Wob, ossia l'interprete di Pino nella fiction mare fuori. Questi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno scatenato gli utenti dei social. L'attore ha infatti parlato della depressione come di una malattia legata ai soggetti deboli. Le sue parole hanno scatenato la polemica, ed è per questo che sono attuali alcune dichiarazioni dell'Avanoni, riportate dal portale Superguida TV. Nel corso di una sua intervista a cuore aperto la cantante, ha infatti rivelato di avere per anni affrontato la depressione, e di essere ancora oggi alle prese con la cura ma vediamo nei dettagli cosa ha rivelato. Le interviste dell'Avanoni sono da sempre iconiche anche perché la cantante è solita usare anche l'ironia per affrontare alcuni temi importanti. Vi è però un argomento molto delicato su cui ha scelto di soffermarsi e che ha lasciato tutti senza parole. In merito alla sua vita privata, la cantante ha infatti raccontato. Ho combattuto la depressione anche io. Mi sono curata, il medico mi prescrisse psicofarmaci che ancora prendo ogni giorno. Una battaglia complessa, lunga e che quindi deve portare avanti ancora adesso. So che tante persone non vogliono ricorrere a questo perché pensano possa modificare la personalità ma non è così. Adesso ho tanta gioia di vivere. Più di prima. L'Avanoni ha quindi con coraggio affrontato il momento più difficile che adesso sembrerebbe essere riuscita a mettersi alle spalle. Nonostante questo non rinuncia alla cura necessaria per farla stare bene, e queste sue parole adesso sono un monito anche per coloro che non hanno trovato ancora il coraggio di affrontare il problema. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.